udinese 3 contro salernitana i friulani agli ottavi di finale contro l'inter udinese avanza al turno successivo contro salernitana udinese prima del duello con l'inter dopo una vittoria convincente nell'ambito della coppa italia l'udinese calcio ha sconfitto la salernitana con un netto 3-0 in una partita vincente questa impressionante prestazione ha garantito ai friulani l'accesso al turno successivo dove affronteranno la forte squadra dell'inter di milano l'udinese ha mostrato fin dall'inizio una dominanza sul campo prendendo rapidamente il controllo della partita i giocatori della salernitana hanno avuto difficoltà ad adattarsi allo stile di gioco dei friulani secondo i rapporti è stato un vantaggio innegabile per l'udinese aver messo in pratica in modo coerente le indicazioni tattiche del loro allenatore lo stile di gioco aggressivo e l'elevata disponibilità fisica dei giocatori dell'udinese hanno messo in difficoltà la formazione difensiva della salernitana nel primo tempo l'udinese è riuscita a segnare già due gol l'attacco era ben coordinato il che ha spesso sorpreso la difesa della salernitana gli ospiti hanno avuto poche occasioni nel primo tempo quindi il punteggio di 2-0 all'intervallo era assolutamente meritato un insider ha riferito che i giocatori della salernitana erano frustrati per il poco possesso palla e la scarsa reazione agli attacchi dei friulani nella seconda metà i giocatori dell'udinese hanno continuato a giocare con intensità e sono riusciti a segnare il terzo gol portando a un punteggio chiaro la salernitana è rimasta al di sotto delle aspettative nelle sue azioni e non è riuscita a impressionare in fase offensiva la squadra che sta lottando in campionato non è riuscita a evitare una pesante sconfitta contro una squadra disposta a tutto in coppa deludendo anche i tifosi della salernitana con questa vittoria l'udinese non solo ha ottenuto il pass per il turno successivo ma anche accumulato molta fiducia in vista del prossimo incontro contro l'inter gli esperti concordano sul fatto che la squadra dell'udinese se riuscirà a mantenere lo stesso livello di forma ha una concreta possibilità di tenere testa anche all'inter l'incontro imminente promette di essere avvincente e molti tifosi si mostrano ottimisti i sostenitori dell'udinese sperano che la loro squadra possa portare il momentum dalla partita contro la salernitana nel match contro l'inter un analista notato che il miglioramento delle prestazioni dell'udinese potrebbe dare alla squadra la fiducia necessaria per vincere anche contro i grandi del calcio italiano una prestazione convincente in coppa potrebbe quindi offrire ai tifosi e ai giocatori dell'udinese una grande motivazione il prossimo turno promette molta suspense mentre la salernitana deve continuare a concentrarsi sulle sue partite di campionato per non perdere il suo posto in classifica autore anita fa che mercoledì 25 settembre 2024